Un cordiale saluto dalla redazione di Arezzo TV, benvenuti al nostro appuntamento con l'informazione quotidiano. In apertura la cronaca, un 61enne morto questa mattina nella piscina comunale di Castiglion Fiorentino all'origine del decesso, un malore improvviso mentre si trovava in piscina. I bagnini hanno capito che qualcosa non andava quando hanno notato che aveva smesso di nuotare, ma tutti i soccorsi sono stati vani. Si tratta di un 61enne disabile di Cortona che oggi, con un gruppo di ospiti del CAM del Ferretto, stava trascorrendo una giornata nell'impianto sportivo. L'allarme è scattato intorno alle 10.30. Sul posto sono arrivati i mezzi dell'emergenza urgenza della ASL Toscana Sud-Est, che hanno proseguito le manovre di rianimazione già messe in atto dallo staff dell'impianto. Per circa mezz'ora hanno cercato in ogni modo di rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare. Allertato anche l'elisoccorso Pegaso. Presenti anche i carabinieri e la polizia municipale di Castiglion Fiorentino. E adesso andiamo in Valdarno. Erano attesi entro la mezzanotte di ieri 5 milioni per il salvataggio della FIMER, ma il fondo inglese Clementi ha optato per una immissione di liquidità come finanza di garanzia. Vediamo il servizio. L'ultimatum scadeva alla mezzanotte di domenica 6 agosto, ma i 5 milioni di euro attesi non sarebbero ancora arrivati nelle casse della FIMER. Il fondo Clementi, che ha avanzato un'offerta di acquisto per l'azienda di Terra Nuova Bracciolini, avrebbe infatti proposto un'immissione di liquidità come finanza di garanzia, confrontandosi quindi in maniera diretta con clienti e fornitori. La prossima data, cerchiate rosso sul calendario, adesso è quella del 21 agosto, giorno in cui il Tribunale di Milano ha fissato l'udienza decisiva per la concessione del concordato. Entro quella data, il fondo inglese dovrà versare 17 milioni, altri 95, a compimento dell'operazione. Sull'attuale crisi dell'azienda è intervenuto anche il coordinatore regionale e deputato di Fratelli d'Italia, Fabrizio Rossi, che precisa che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy sta seguendo con attenzione la vicenda, ma che non può intervenire in presenza di un procedimento del Tribunale. strategiche saranno così le prossime settimane per capire come e dove sta andando la vertenza, aperta ormai da mesi. Nei prossimi giorni infine in programma un nuovo faccia a faccia tra sindacati e Clementi Group, dopo quello della scorsa settimana, nel quale il Presidente del Consiglio di Vigilanza del gruppo inglese aveva assicurato di voler riportare la FIMER ai fasti passati. L'intento è chiarissimo già da una nuova e mezzo di rilevare la FIMER e di dare gli strumenti al senso largo, non solamente i soldi, ma anche tutti gli accessi a diversi mercati, per rilevare la FIMER, per rifare che la FIMER ridivenesse la Power One che tutti abbiamo conosciuto e che è una grande azienda che ha dei dipendenti assolutamente pazeschi. E adesso torniamo ad Arezzo, tutto ancora fermo in via Filzi, dove dovrebbe sorgere la nuova caserma dei Vigili Urbani di Arezzo. Vediamo. Due o tre anni lo vedo in questo stato, non lo so se stanno facendo lavori, però è sempre uguale più o meno. Tutto ancora fermo in via Fabio Filzi, proprio dove dovrebbe sorgere la nuova caserma della Polizia Municipale di Arezzo. Adesso l'annuncio dell'avvio della procedura di risoluzione del contratto con l'azienda appaltatrice dell'Opera. Una decisione inevitabile, come aveva annunciato in Consiglio Comunale il sindaco Alessandro Ghinelli, con l'intento però di cercare soluzioni extragiudiziarie. Agli uffici legali del Comune è stato così dato mandato di studiare una strada percorribile. Le prime operazioni di bonifica e demolizione nell'ottobre 2021, gli interventi sarebbero poi dovuti durare 330 giorni per un investimento complessivo di 6 milioni di euro. Nell'aprile successivo però lo stop del cantiere per motivi economici, tra cui caro materie prime e approvvigionamento energetico. Cioè, quando una cosa è stata comunque risistemata, probabilmente il valore alla zona glielo dà, penso che sì. Adesso il Comune sta cercando una soluzione, gli uffici stanno studiando la complessa situazione che si è maturata. E adesso parliamo di San Donato, celebrazioni partecipatissime quelle di ieri sera in Cattedrale. Vediamo il servizio. Una tradizione che si rinnova ogni anno, quella delle celebrazioni di San Donato, patrono di Arezzo, e che culmina con lo spettacolo pirotecnico dalla fortezza Medicea organizzato da Arezzo in Tour. In un duomo gremito di sindaci, associazioni e cittadini, tutti hanno reso omaggio al secondo vescovo della città con la donazione dei ceri. Mi fa proprio piacere vedere, poi la serata è bellissima, vedere tanta gente un po' da tutta la provincia che viene a rendere omaggio a San Donato con la speranza che questo santo rientri sempre di più nella mente, nel cuore e nelle famiglie di Arezzo. Morto martire, decapitato e rappresentato nell'iconografia in vesti di vescoviglie con gli attributi del calice di vetro e del drago da lui combattuto, è proprio il miracolo di San Donato ad ispirare. Dopo l'irruzione in chiesa, alcuni pagani gettarono a terra il calice, frantumandolo. Donato, dopo aver pregato, raccolse i frammenti del calice e lo ricompose, pur mancando un pezzo del fondo, il vescovo continuò a servire il vino consacrato ai fedeli senza che neppure una goccia cadesse a terra. Arezzo ha qualche coccio rotto da mettere insieme, come tutte le città credo, ha la dignità e l'umiltà di saperlo, ma credo anche la forza di poterlo fare. Quindi quando si rimettono insieme i cocci si crea un nuovo elemento che ha con sé anche la grande tradizione della storicità e quindi è più forte di prima. Cocci soprattutto dentro, nello spirito, nell'anima, nelle famiglie. Abbiamo tutti bisogno che qualcuno rimetta i cocci insieme e ci dia, alimenti la speranza. La chiesa in questo ovviamente ha un ruolo. Se non lo fa la chiesa, chi lo fa? esperta e medico delle anime, la chiesa. Se non lo fa la chiesa, purtroppo non lo fa nessuno. Ecco, auguriamoci che la nostra chiedattona deve essere veramente, come dice il Papa, una bellissima espressione, quell'ospedale da campo che cura tutte le ferite dell'umanità. E proprio nella giornata del Santo Patrono la terrazza della provincia di Arezzo viene intitolata a San Donato. La terrazza del palazzo della provincia di Arezzo da oggi è terrazza San Donato intitolata appunto al Patrono della città. Una iniziativa che ha preso avvio a seguito della delibera del Consiglio Provinciale dello scorso 26 giugno. È stata presentata una mozione dal nostro gruppo che ha trovato naturalmente il voto unanime di tutto il Consiglio Provinciale. Dunque, a questo punto di vista ringrazio Sua Eccellenza il Bescovo Andrea Migliavacca che ha risposto a questo appello della provincia e da questo punto di vista da oggi con la nostra terrazza diventerà la terrazza di San Donato. Dunque, da un elemento chiuso all'interno di questo palazzo invece diventerà un luogo cittadino aperto al pubblico perché questa è l'idea la vorremmo sfruttare per eventi culturali tutto quello che naturalmente la città ha bisogno e su questo noi naturalmente daremo il massimo impulso. La presenza dei sindaci, dei colleghi diciamo della diocesi a Retina di Sansepolcro, Cortonarezzo in qualche modo dà l'idea di un messaggio di quello del territoriale. Dunque, credo che questa sia l'immagine più bella e poi in questo bellissimo sfondo e scorcio credo che sia un valore aggiunto. Subito dopo l'intitolazione, le celebrazioni solenne alle 18 in cattedrale questa volta con il vescovo Andrea Migliavacca il suo primo San Donato. Esatto, il mio primo San Donato quindi è ancor più emozionante è occasione di condivisione, di conoscenza, di incontro con la città e con la diocesi. Una terrazza che è proprio di fronte al Duomo è come una immagine, lo dirò anche, di dialogo di dialogo tra il territorio, la città, la provincia e il dialogo con la presenza della Chiesa in questo territorio dove il dialogo vuol dire che ci ritroviamo su punti comuni che sono la costruzione di una comunità dove valorizzare le risorse, affrontare i problemi guardare alle sfide che ci attendono nel futuro. Quindi l'intitolazione a San Donato richiami proprio questo dialogo con la realtà civile ed ecclesiastica in un territorio nel quale abitiamo ed è la nostra casa. Nel 2022 la Toscana ha registrato un aumento di infortuni e malattie professionali tra i più alti del centro Italia solo il Lazio ha fatto peggio a dispetto di questo dato i dipartimenti della prevenzione della provincia di Arezzo si stanno svuotando mancano in particolare medici e tecnici della prevenzione a dirlo è la segreteria della CGL a retina per bocca di Alessandro Tracchi che è appunto segretario provinciale che lancia l'allarme tra le tre province della ASL Toscana Sud-Est Arezzo è quella in cui si è verificato il maggior numero di infortuni sul lavoro nel 2022 sono stati 4.692 di cui 11 mortali si tratta anche della provincia con il maggior numero di imprese di occupati dell'area vasta Tracchi chiede con quali risorse si pensa di offrire un servizio fondamentale volto alla prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro senza presidi numericamente adeguati sul territorio la FPCGL sta da tempo chiedendo più assunzioni in sanità poiché il tetto alla spesa per l'organico sta mettendo in seria crisi i servizi e tra questi quelli della prevenzione sono tra i più penalizzati e adesso cambiamo pagina anche la Casa Museo Ivan Bruschi questo fine settimana ha aperto le sue porte ai visitatori per le visite in linea con Gallerie d'Italia vediamo spesso ci vengo qui perché mi fa bene al cuore e all'anima quindi quando è gratuito specialmente per la fiera un giro ce lo faccio sempre porta aperte alla Casa Museo Ivan Bruschi di Arezzo per una giornata di visite gratuite in linea con le Gallerie d'Italia ci piace essere in linea con quello che succede nel patrimonio di Intesa San Paolo e poi anche essere in linea con quelle che sono un po' le direttive del Ministero della Cultura appunto che promuove la prima domenica di ogni mese con l'ingresso gratuito per noi è una grande occasione anche perché coincide con la fiera d'antiquaria di Arezzo e dunque messa insieme queste cose per noi è una grande opportunità è un museo che già solo come struttura ha il suo perché quindi un gioiello di Arezzo questo senza dubbio visitabili le collezioni permanenti e le esposizioni temporanee dalla mostra fotografica la sottilità dell'aria Arezzo e il suo territorio negli archivi alinari al percorso da Pontormo a Fattori sono infatti arrivate ben 11 opere pittoriche dal patrimonio di Intesa San Paolo che adesso saranno in pianta stabile qui alla Casa Museo e questo ci valorizza ci arricchisce tantissimo con opere appunto che vanno dal 400 al 500 questi fattori sono splendidi c'è questo guado questo grano fagliullino di questi soldati questo è bellissimo è da rubare Alla Casa Museo Ivan Bruschi torna anche la rassegna Jets & Wine che quest'anno spegne 10 candeline la decima edizione partirà il 17 di agosto con il primo concerto come sempre sono 4 gli appuntamenti cadranno sempre di giovedì dunque 17, 24 agosto e poi 7 e 14 settembre colgo l'occasione per ricordare che siamo anche aperti il 14 e il 15 agosto in maniera straordinaria proprio come anche tutti i musei che fanno parte del patrimonio di Intesa San Paolo e il premio Cortona Antiquaria va a Vittorio Sgarbi la premiazione è in programma il prossimo 27 agosto per il suo impegno nei confronti del più importante evento culturale della nostra città sottolinea il primo cittadino di Cortona Luciano Meoni che aggiunge la mostra Signorelli 500 dedicata al grande pittore cortonese ha potuto beneficiare della sensibilità e delle qualità del professor Sgarbi oltre che del supporto del ministero della cultura di cui è sottosegretario con Vittorio Sgarbi possiamo contare su un punto di riferimento anche per le prossime nuove iniziative culturali che potranno portare ulteriori benefici alla città di Cortona e torniamo ad Arezzo Matteo Abbado Organ Trio ha chiuso l'Arezzo Smart Festival vediamo Organista pianista e compositore Matteo Addabbo è uno tra i migliori e mondisti italiani ad Arezzo sul palco dell'Arena Eden per l'ultimo appuntamento dell'Arezzo Smart Festival l'Organ Trio guidato dall'organista senese assieme ad Andrea Bucciarelli alla chitarra e Simone Brigli alla batteria è sicuramente uno degli mondisti più riconoscibili in Italia un esponente diciamo di questo strumento molto particolare molto affascinante che ha un suo ruolo anche nella musica jazz oltre che nel blues e nel rock ovviamente però diciamo che nel jazz si è ritagliato un suo spazio e Matteo è sicuramente uno degli esponenti più importanti che abbiamo Matteo Addabbo ad Arezzo ha presentato in esclusiva il suo ultimo disco L'Asino che vola una raccolta di brani che è composto tra il 2019 e il 2022 riconducibili agli stili del jazz più attuale diciamo che è uno strumento orchestrale nel senso che è come dover gestire una vera orchestra una vera e propria orchestra perché è dotato di tanti registri e quindi puoi ottenere una gamma timbrica e dinamica estrema molto ampia un altro appuntamento nell'estate a retina nella magica notte di San Lorenzo il 10 agosto alle 20 e 30 ritorna a Lucignano in piazza del tribunale la tanto attesa cena in piazza sotto le stelle organizzata per il comune della Val di Chiana da terre etrusche Evans vediamo il servizio ormai da anni Lucignano il 10 agosto apparecchia la sua piazza per un elegante convivio con chef provenienti da tutta Italia insieme a pasticceri maestri gelatieri maestri distillatori casari cantine per festeggiare insieme la notte dei desideri qui a Lucignano ancora una volta attraverso questa iniziativa ci apriremo ad accogliere quello che sono non solo gli chef ma con loro un piccolo pezzo della grande identità culinaria italiana e questo non poteva che essere fatto all'interno della piazza del tribunale di Lucignano baci e abbracci il tema di questa edizione con molte curiosità e prelibatezze ci ritroveremo tutti in piazza il 10 agosto in questo magnifico borgo a Chiocciola per festeggiare l'estate l'estate è scena all'aperto è barbecue è braci quindi le migliori carni della Val di Chiana tre grandi braceri saranno accesi per cuocere a vista le grandi carni della Val di Chiana Chianina Cinta Senese Pollo della Val di Chiana ma anche tanti abbracci la piazza era il luogo di incontro il luogo di mercato il luogo di affari il luogo di scambio il luogo di amori quindi è l'idea di ritrovarsi qui tutti insieme locali e tanti stranieri appunto in un abbraccio unico per festeggiare l'estate sotto le stelle di Lucignano e sarà un'edizione dai risvolti ancora più significativi grazie al gemellaggio enogastronomico con la città di Pompei quindi non solo il parterre di chef che saranno che saranno presenti ma anche con le proprie prelibatezze la propria offerta culinaria ma c'è anche questa bellissima novità che con lo chef Paolo Gramaia del presidente di Pompei stringiamo un gemellaggio enogastronomico lo facciamo perché appunto crediamo che tante siano le le analogie e soprattutto questo scambio che arricchisce e arricchisce entrambi ecco che quindi Lucignano diventa sempre di più per questo evento straordinario di cui ringrazio Terretrusca e Vittorio Camorri dell'organizzazione diventa sempre di più simbolo dell'eccellenza non soltanto più lucignanese non soltanto più valdichiana ma ormai nazionale e adesso apriamo la pagina sportiva e ufficiale la composizione dei gironi per la prossima Lega Pro dell'Arezzo Calcio il consiglio direttivo ha inserito la squadra Amaranto nel girone B insieme ad Ancona Carrarese Cesena Fermana Gubbio Juventus Next Gen Lucchese Olbia Perugia Pescara Pineto Pontedera Re Canatese Rimini Sestri Levante Spal Torres Virtus Entella Vis Pesaro Il campionato di Serie C inizierà nel fine settimana del 2 e 3 settembre gli Amaranto giocheranno di sabato per evitare la concomitanza con la giostra del Saracino dedicata proprio al centenario della società l'Arezzo debuterà a Rimini per poi affrontare la Carrarese al comunale il 17 dicembre ci sarà il derby interno con il Perugia ultima giornata in casa con il Sestri Levante intanto oggi la società Amaranto ha annunciato l'accordo con l'Empoli Football Club per l'arrivo in Amaranto a titolo temporaneo del centrocampista classe 2004 Alessandro Renzi contestualmente la società sportiva Arezzo comunica di aver ceduto a titolo definitivo il difensore classe 2008 Tommaso Fiacchini alla società Empoli Football Club e adesso passiamo al basket Federico Fornara vestirà la maglia del Laman Basket anche per la stagione 2023-2024 assoluto protagonista alla sua prima stagione ad Arezzo dove ha viaggiato ad oltre 16 punti realizzati a partite ed è stato il giustiziere di Lucca nella semifinale playoff quando le sue due triple allo scadere hanno strascinato la SBA alla finalissima contro il Prato la girandola di emozioni che Fornara ha regalato ai colori Amaranto ha avuto però uno sfortunato epilogo con l'infortunio patito in gara 4 e adesso però la riabilitazione del cannoniere Amaranto prosegue a pieno regime sotto lo sguardo attento del fisioterapista dell'Amen Simone Marracini la canotta numero 4 dell'Amen BC Servizi sarà quindi ancora di Federico Fornara e adesso passiamo alla ginnastica spettacolo emozioni applausi per la ginnastica Petrarca nel palcoscenico internazionale del World Ginna Strada di Amsterdam la società Aretina ha partecipato alla massima manifestazione ridata di Ginna Strada e per 8 giorni ha presentato le proprie coreografie in piazze parchi e palazzetti della capitale olandese il momento maggiormente emozionante è stato rappresentato dall'Italian National Performance dove i ragazzi e le ragazze della ginnastica Petrarca hanno prima presentato l'esercizio dedicato ai sette vizi capitali e poi hanno avuto l'onore e l'onere di tornare in pedana in conclusione della serata con un omaggio alla meraviglia di alcune delle più importanti opere scultorie della storia e in chiusura parliamo di Nitro Bike ancora un successo per il castiglionese Simone Nascosti che per la quarta volta consecutiva è campione nazionale di RC Nitro Bike la disciplina che vede correre in pista i migliori modellini di motociclette radiocomandate a benzina 4 le vittorie collezionate negli anni a partire dal 2018 in Francia nel 2019 in Austria lo scorso in Germania e quest'anno di nuovo in Austria nel weekend del campionato del mondo di ciclismo in Scozia del MotoGP in Inghilterra con crea durazione a Simone Nascosti che in Austria si è nuovamente laureato campione del mondo categoria Nitro Bike ha sottolineato il sindaco Mario Agnelli e con questo davvero tutto per il nostro telegiornale io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi auguro una buona serata arrivederci a Grazie a tutti.